bentornate sul mio canale come primo progetto dell'anno vi propongo questa stola realizzata con una flowers alpaca e con l'uncinetto del numero 4 è una stola molto ampia perché le mie misure sono un metro e ottanta in lunghezza 50 centimetri in larghezza è realizzata con una flowers alpaca quindi con un 20 per cento di alpaca e queste sfumature bellissime o diciamo ho voluto mettere un po di colore anche se siamo in inverno quindi come vedete c'è il rosso se c'è l'arancio c'è il giallo c'è il blu c'è il celeste ci sono un po tutti i colori è un progettino che può realizzare chiunque di voi anche le principianti è un motivo praticamente formato da quattro giri che vanno sempre ripetuti ma voi potete decidere la vostra lunghezza e la vostra larghezza come ripeto la mia è 50 per 180 ed è molto avvolgente è molto calda e anche molto molto soffice è una nuvola in realtà quindi che cosa dirvi ragazze prendiamo l'uncinetto prendiamo il nostro filato e proviamo a realizzare questo semplicissimo progetto che da il primo del di questo nuovo anno quindi il primo progetto del 2024 quindi vi auguro una buona visione e noi ci vediamo un altro progetto eccoci qui al tutorial di questa stola floreale e questa stola floreale come ho detto in anteprima io anche se siamo in inverno ho voluto mettere un po di colore e la mia che come potete vedere è una che che parte dal rosso poi va all'arancio al rosso più chiaro all'arancio al giallo fino ad arrivare al blu eccolo qui questa è la parte finale le misure come dicevo in anteprima sono una larghezza di 50 cm per una lunghezza di 180 il motivo è un multiplo di 5 più 1 e sono quattro giri che vanno sempre ripetuti è molto semplice la può realizzare chiunque ed io l'ho realizzata con l'uncinetto del numero 4 è una flowers alpaca e della mia flowers alpaca mi è avanzato soltanto la parte finale la parte blu dove io adesso vi farò vedere come lavorare questi quattro giri la flowers alpaca sono flowers da 250 grammi per 940 metri 20 per cento alpaca 80 per cento acrilico uncinetto consigliato dalla casa è il tre e mezzo quattro io ho utilizzato il numero 4 quindi cosa facciamo avviate un tot di catenelle per la lunghezza che voi desiderate rispettando il multiplo di 5 io adesso avvierò qualche multiplo e poi farò vedere come si parte per realizzare questo progetto io ho avviato 30 catenelle più una quindi adesso che cosa dobbiamo fare io aggiungo 22 catenelle quindi una e due rientro nella terza dall'uncinetto e quindi questa è la mia prima maglia alta poi faccio 4 catenelle 2 3 e 4 salto una due tre quattro nella quinta faccio la mia maglia alta questo è il primo giro 1 2 3 e 4 contiamo sempre una due tre quattro nella quinta punto alto quindi dovete fare questo per tutto il giro e noi ci vediamo al termine del giro siamo arrivati al termine del giro 4 catenelle saltiamo una due tre quattro e nell'ultima facciamo la maglia alta e la maglia alta facciamo una maglia alta chiusa a metà carichiamo il filo rientriamo seconda maglia alta chiusa a metà e chiudiamo tutto insieme così inizio e fine giro sono molto regolari adesso facciamo il secondo giro per il secondo giro ci alziamo con due catenelle quindi una e due voltiamo il lavoro carichiamo il filo e rientriamo alla base e questa si equivale alla prima maglia alta adesso noi che cosa dobbiamo fare facciamo una e due catenelle poi andiamo nella maglia alta e facciamo maglia alta 2 catenelle carichiamo il filo rientriamo e facciamo la nostra seconda maglia alta poi 2 catenelle maglia alta successivo successiva scusate facciamo una maglia alta 2 catenelle carichiamo il filo rientriamo e facciamo la maglia alta e dobbiamo fare questo per tutto il giro quindi ci vediamo al termine del giro siamo arrivati al termine del giro facciamo le nostre 2 catenelle andiamo sulla maglia alta e facciamo maglia alta chiusa a metà carichiamo il filo rientriamo maglia alta chiusa a metà 3 asoline e chiudiamo tutto insieme 2 catenelle voltiamo il lavoro rientriamo e facciamo la maglia alta e in questo modo inizio e fine sono uguali e molto regolari 2 catenelle e ripetiamo lo stesso giro che abbiamo sotto quindi maglia alta 2 catenelle rientriamo e maglia alta quindi 2 catenelle rientriamo 2 catenelle carichiamo il filo rientriamo e abbiamo ripetuto il nostro punto v quindi andate avanti in questo modo e ci vediamo al termine del giro siamo arrivati al termine 2 catenelle andiamo sulla maglia alta e facciamo maglia alta chiusa a metà carichiamo rientriamo seconda maglia alta chiusa a metà 3 asoline e chiudiamo tutto insieme ed ecco qui adesso facciamo l'ultimo giro quindi 2 catenelle voltiamo rientriamo e lavoriamo questa è la nostra prima maglia alta ne lavoriamo altre due nello stesso punto quindi una e due per un totale di tre poi carichiamo il filo senza fare nessuna catenella andiamo nella v successivo e facciamo cinque maglie alte quindi una quindi due tre quattro e cinque carichiamo il filo nella v successiva cinque maglie alte 2 3 4 e 5 quindi facciamo questo per tutto il giro siamo arrivati al termine carichiamo il filo e nell'ultima maglia facciamo una due e tre maglie alte e questo è praticamente il motivo completo da ripetere sempre quindi adesso si riparte dal primo giro ma io ho fatto una variante quindi chi vuole può ripartire con il punto alto tranquillamente e invece io adesso vi faccio vedere che cosa ho inserito io allora ci alziamo con due catenelle voltiamo il lavoro rientriamo e questa è la nostra prima maglia alta poi facciamo una due tre quattro e cinque rientriamo alla quarta dall'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa poi facciamo una e due catenelle andiamo sulla maglia centrale delle cinque quindi saltiamo 1 e 2 e facciamo la maglia alta poi una due tre quattro e cinque andiamo nella quarta e facciamo una maglia bassa in questo modo due catenelle carichiamo il filo saltiamo una due nella nella maglia centrale maglia alta poi una due tre quattro e cinque andiamo nella quarta catenella maglia bassa una due catenelle maglia centrale maglia alta ve lo faccio rivedere per l'ultima volta una due tre quattro e cinque andiamo nella quarta entriamo e facciamo la maglia bassa 2 catenelle e andiamo nella maglia centrale del gruppetto di cinque maglie alte e facciamo la maglia alta quindi dovete ripetere questo per tutto il giro siamo al termine 2 catenelle andiamo sulla l'ultima maglia alta e facciamo maglia alta chiusa a metà carichiamo il filo rientriamo maglia alta chiusa a metà tre asoline e chiudiamo tutto insieme quindi come vedete inizio e fine giro vi viene molto regolare e poi si riparte con due catenelle voltiamo il lavoro rientriamo maglia alta poi facciamo una due catenelle andiamo sulla maglia alta e ripetiamo il nostro punto v quindi maglia alta 2 catenelle rientriamo scusate maglia alta 2 catenelle maglia alta punto v quindi 2 catenelle rientriamo 2 catenelle e maglia e punto v sulla maglia alta quindi maglia alta 2 catenelle rientriamo maglia alta quindi dovete fare questo per tutto il giro siamo al termine del giro 2 catenelle e maglia alta chiusa a metà carichiamo il filo rientriamo maglia alta chiusa a metà e chiudiamo tutto insieme due catenelle e si riparte con il punto v e poi voglia con i ventaglietti di cinque maglie alte quindi rientriamo facciamo la nostra maglia alta 2 catenelle andiamo nel punto v e ripetiamo il nostro punto v quindi maglia alta 2 catenelle rientriamo e la nostra maglia alta 2 catenelle nel punto v ripetiamo il punto v quindi come potete vedere il punto è molto molto semplice e comunque alla portata di tutte poi se voi decidete di prendere questo filato dove io l'ho preso sul sito www.merceriaflavia.it questa flowers quindi se voi anche e volete dare un'occhiadina qualcosina ancora c'è quindi a volte basta un punto semplice ed un filato un po particolare per rendere un progetto leggermente diverso dai classici infatti questo è un punto molto semplice ma fatto con questo filato vi dà un effetto molto particolare io poi vi lascio in descrizione tutti i link di riferimento adesso 2 catenelle voltiamo maglia alta è la nostra prima maglia alta più altre due maglie alte quindi una e due e si ripetono le cinque maglie alte nell'arche tino di due catenelle quindi 2 3 4 e 5 e così via quindi come vedete il motivo è il molto molto semplice quindi poter può realizzarlo veramente chiunque detto ciò io adesso vi lascio in descrizione i link di riferimento forse anche il link diretto del filato ci sono se non sbaglio anche altre sfumature io ho utilizzato vari colori perché sul canale c'è già un gilet che ho realizzato con una flowers alpaca però con le tonalità del verde adesso ho scelto questa tonalità di questi colori un po più vivaci proprio perché anche se stiamo in inverno un po di colore non guasta mai quindi spero di essere stata chiara le spiegazioni vi lascio tutti i link di riferimento e intanto vi ricordo le mie misure 50 in larghezza un metro e 80 in lunghezza uncinetto di lavorazione per quanto mi riguarda io ho utilizzato il numero 4 però voi provate con la vostra mano e vedete che quale è più consono per voi la flowers è da 250 grammi per 940 metri 20 per cento alpaca 80 per cento acrilico quindi detto ciò vi auguro un buon lavoro e noi ci vediamo in un prossimo tutorial